Musica Martini vediamo parte l'avvocato il tiro e il gol Lazio in vantaggio grandissimo il gol Lisello sbaglia attenzione il profeta, Eraldo Profeta Perni però la conclusione lo fa il gol del pareggio del Verona stop di Peris contropiede è libero Montefiore Peris prova la conclusione attenzione interviene Morosini la mette in mezzo è libero Montefiore Montefiore per Peris il tiro e il gol del Verona del vantaggio grandissima l'azione del giallo-blu Martini sbaglia nuovamente Morosini ancora Morosini prova il tiro e il grandissimo gol di Morosini diagonale basso grandissima azione di Morosini Paolo attenzione superiorità numerica per il Verona Morosini riprova la conclusione il grandissimo gol di Paolo Morosini sono quattro i gol del Verona rientra sempre sul destro e scarica un tiro potentissimo a due vediamo Pisello parte il fischio Pisello però la conclusione il tiro deviato è Bartolini mette in sacco Morosini rimessa laterale ancora più Martini per Pisello il tiro e il gol del bomber Angelo Pisello si riapre il match colpo di testa di Martini per Bartolini attenzione Bartolini il tiro e il gol il pareggio della Lazio 4 a 4 24 5 10 6 7 8 8 9 9 10 11 11 14 14